In questa sessione vedremo le tipologie di opzioni in acquisto. Intanto per iniziare sfatiamo subito un mito che vuole le opzioni troppo complicate perché ti diciamo subito che le opzioni sono solamente di due tipi le call e le put poi queste due tipologie di opzioni si possono acquistare o vendere ma adesso andremo a vedere che cosa significa acquistarle. Come sempre ci tocca partire dalle temibili definizioni per poi andare all'esempio più pratico che generalmente insomma chiarifica un po' il tutto. Per quanto riguarda l'acquisto delle call che cosa succede? Acquistare call dà il diritto ma non l'obbligo di acquistare il sottostante ad un prezzo stabilito entro una data stabilita e quando compriamo opzioni di tipo call si dice che nei confronti del mercato siamo rialzisti ma passiamo subito ad un esempio pratico. Diciamo che decidiamo di investire sulle opzioni di Apple perché pensiamo che possano crescere nel futuro. Questo è il grafico del periodo che stiamo prendendo in esame proprio di Apple. In questo caso quindi andiamo ad acquistare un'opzione di tipo call ad un livello di 110 dollari come indicato dal grafico con scadenza 60 giorni per fare un investimento di medio periodo quindi un paio di mesi. Per acquistare questa opzione il mercato ci chiede un premio da pagare. In questo caso il premio da pagare sarà di 100 dollari ricorda sempre che quando acquisti un'opzione sei sempre tu a pagare il mercato. Quindi acquistando la nostra opzione call compriamo il diritto di acquistare Apple a 110 dollari tra 60 giorni qualunque sarà il prezzo di Apple. Scaduti i 60 giorni Apple effettivamente ha aumentato il suo valore arrivando fino ad una quotazione di 120 dollari. A questo punto decidiamo di esercitare il nostro diritto e quindi di avere nel nostro portafoglio di investimenti 100 azioni Apple ad un valore di 110 dollari anche se il valore effettivo come come si può vedere è di 120. Per questo motivo quindi il profitto in questo caso come è calcolato. È calcolato andando a prendere la differenza tra il prezzo attuale quindi 120 dollari meno il prezzo di acquisto quindi 110 e il risultato ci dà 10 dollari. Questi 10 vanno moltiplicati per 100 perché ogni opzione muove 100 azioni e al totale bisogna sottrarre i 100 dollari che invece abbiamo pagato per fare questo investimento. In questo caso dunque il profitto totale sarà di 900 dollari a fronte di un massimo rischio di 100 dollari. Ora lo so che tutto questo può sembrare un po' aleatorio un po' su carta però nei nostri laboratori operativi all'interno del trading club andremo a vedere come gestire tutte queste operazioni e soprattutto nella parte dedicata alle opzioni avrai anche la possibilità di vedere alcuni esempi di come andiamo ad operare sulle nostre piattaforme reali a mercati aperti. Quindi questo è per quanto riguarda l'acquisto di un'opzione tipo call. Passando invece all'acquisto di un'opzione put e anche qui partendo sempre dalle definizioni l'acquisto di un'opzione put dà il diritto anche qui ma non l'obbligo di vendere il sottostante ad un prezzo stabilito entro una data stabilita. Quindi quando compriamo un'opzione tipo put in questo caso si dice che siamo ribassisti nei confronti del mercato cioè pensiamo che quel dato titolo sul quale andiamo a acquistare una put possa scendere entro il periodo che andiamo a stabilire. Quindi la situazione è uguale alle call però invece che rialzo pensiamo ad un possibile ribasso ma anche qui passiamo ad un altro caso pratico. In questo caso decidiamo di andare ad acquistare un'opzione put su Netflix, questo è il grafico di Netflix, ad un valore di 100 dollari e anche qui sempre con una scadenza di 60 giorni. Per acquistare questa opzione il mercato ci chiede un premio di 150 dollari. Quindi acquistando l'opzione put compriamo il diritto di vendere Netflix a 100 dollari tra 60 giorni qualunque sarà la sua quotazione. Scaduti 60 giorni effettivamente Netflix ha diminuito il suo valore arrivando addirittura come puoi vedere a 85 dollari. A questo punto decidiamo di esercitare il diritto e di avere in portafoglio 100 azioni Netflix in vendita ad un valore di 100 dollari anche se il valore effettivo come si può vedere è di 85. Quindi andiamo anche qui a calcolare il profitto, il profitto su questa operazione. In questo caso bisogna sottrarre il prezzo di acquisto quindi 100 dollari al prezzo attuale di 85, anche qui va moltiplicato per 100 perché anche un'opzione put va a muovere sempre 100 azioni. Dopodiché al totale va sottratto il premio che abbiamo pagato di 150 dollari e quindi il profitto totale in questa operazione che abbiamo preso ad esempio è di 1350 dollari a fronte di un massimo rischio di soli 150 dollari. Una delle domande che a questo punto sorge in maniera naturale, spontanea, è questa. Cioè in base a che cosa si decide il prezzo del premio? Cioè in base a cosa effettivamente noi andiamo a pagare 100 dollari, 200 dollari o 300 dollari un'opzione piuttosto che un'altra? E questa è una domanda assolutamente lecita ed intelligente che sarà oggetto dei prossimi video. Ma prima di tutto questo andremo a vedere quelli che sono i parametri delle opzioni ed il concetto di breakeven point.